Salve a tutti! Per la sezione recuperi elettronici oggi andremo a smontare una vecchia stampante. Anche questa qui è stata recuperata e risulta attualmente non funzionante. Quindi l'unica cosa che se ne può fare prima di gettarla via è cercare di recuperare qualche componente che si trova al suo interno. Generalmente tutte le stampanti di diciamo dieci anni a questa parte sono diciamo standard quindi all'interno troverete sempre gli stessi componenti qualsiasi sia il modello. Qualcuna è un po' più evoluta dell'altra ovvero c'è lo scanner ma principalmente gli gli elementi elettronici di nostro interesse rimangono sempre uguali. Ora inizio lo smontaggio e pian piano vi farò vedere le parti più cruciali. Ho iniziato lo smontaggio ed ecco come si presenta all'interno. E' piena di circuitini, motori elettrici, ingranaggi, quindi molta plastica e qualche ingranaggio. Quando la smontate la prima cosa da fare è togliere e mettere in sicurezza le cartucce perché altrimenti vi combinate una cosa sporchissima. Bene continuo a smontare. Sulla parte dello scanner ho trovato un bel motore passo passo con il suo toroide di filtro comune. Ecco qui come si presenta la pista il carrello tramite cui poi l'inchiostro viene inciso sul foglio di carta e purtroppo nel tentativo di togliere le cartucce è successo quello che vi dicevo. Ormeno mi sono sporcato quindi state molto attenti quando le andate a togliere perché vi sporcate sicuro. Ho terminato lo smontaggio della stampante ed ecco cosa ho recuperato. Tre motori di cui due normali e uno passo passo con due filtri di modo comune. Un alimentatore infatti questo era l'alimentatore della stampante funzionante e ha delle uscite a più 20 volt e meno 17 volt può tornare utile per qualche progetto con alimentazioni strane o comunque alimentazioni duali. La scheda di controllo della stampante dove si può vedere che le cose che possiamo principalmente recuperare sono i condensatori elettrolitici tutti gli altri sono degli integrati dei microprocessori quindi di questa roba ben poco ma gli elettrolitici ci fanno comodi anche un induttore. Poi per quanto riguarda invece le parti meccaniche abbiamo delle molle, dei lamierini, lamiere di ferro, questo è un buon dissipatore, questa barra, una barra di 10 mm di diametro lungo più o meno 30 mm in acciaio inox può tornare utile per qualcosa e comunque sempre acciaio quindi lo tengo. Inoltre io mi terrò anche questo sportellino che sarebbe la parte superiore dove poi si metteva il foglio per lo scanner perché risulta comodo tipo se si vuole fare qualche cosa con uno sportellino in vetro è carino quindi si apre, si chiude e si vede ciò che c'è dentro. E' già fatto quindi lo conservo. Molto bene quindi questo è tutto quello che abbiamo recuperato e in generale questi elementi come già detto sono comuni a tutte le stampante quindi aprendone una troverete più o meno sempre questa roba qui. Va bene per questo video è tutto, alla prossima!